I problemi di Schiaponte che non vengono risolti, parliamo con Raffaele Marino che ci spiega quali sono i più importanti. Per esempio adesso noi ora ci troviamo nel piazzale vicino al panificio Boccia e già qua ci sono degli elementi che non vanno. Sì Mirna, come si può rilevare c'è un solco dove si evidenzia che dopo aver pavimentato la strada è stata installata la tubatura del gas e i lavori sono stati fatti sempre con una straordinaria sufficienza senza ripristinare il tutto adeguatamente. Si vedono i solchi, il terriccio lasciato e la diversità di pavimentazione salta agli occhi anche del ciclo. Poi abbiamo vari steli di cestini raccogli rifiuti che già sono lì, privi del cestino. Siamo in una zona negletta, spoglia e quant'altro. La cosa che più mi addolora è che i cosiddetti professori del palazzo scorazzano in queste zone però evidentemente sono più miopi di me, non si accorgono. Io quantomeno sono riuscito a mitigare i miei difetti ottici con degli interventi ma loro evidentemente non si curano manco di migliorare la propria vista facendosi sfuggire queste brutture così palesi. Poi hai detto invece lungo la strada dove sta la giugneria Lanfreschi c'è anche una buca. No, più che una buca è un avvallamento vero e proprio, un avvallamento che io ritengo costituisca anche una particolare preoccupazione e siccome la cosa non è recente mi sono particolarmente meravigliato che in occasione di quella 100 km ciclistica diciamo a quasi 300 metri dal punto di partenza sono affluiti in massa, mi pare, se fossero 600 partecipanti. Tu immagina un poco se fosse caduto uno in questa euforia, in questo abbrivio frutto dell'inizio della gara se fosse caduto uno lì ci sarebbe stata una caduta a catena con particolari risvolti poco felici.